Ospite di Books and Art di questa settimana è la signora Margaret Mazzantini, una delle maggiori autrici italiane e oggi presente al forum Monzani per la presentazione del suo ultimo libro Nessuno si salva da solo, edito da Mondadori. A tre anni dall'uscita di Venuto al Mondo, vincitore del premio Campiello 2009, lei signora torna in libreria con un nuovo romanzo ricco di emozioni intense, Nessuno si salva da solo, edito da Mondadori. Ce ne vuole brevemente riassumere la trama? Nessuno si salva da solo è una storia di una Cina, in realtà è una coppia appena separata, che si ritrova una sera alle porte dell'estate, si ritrova a cena in un ristorante, lui si è trasferito da poco in un residence, lei è rimasta a casa con i due bambini e sono in quel momento terribile, perché quando un amore finisce c'è una grande crisi di identità innanzitutto, quindi loro sono sperduti, perché loro non possono più vivere all'interno di quella coppia, ma fuori da quella coppia non sanno più chi sono. Nel corso di questa cena viene fuori a chiazzi la loro vita, anche i motivi di questa rottura, credo che sia un libro pieno di energia, pieno di forza vitale, perché in realtà tutto è così recente, quindi loro sono ancora lì smarriti che lottano da qualche parte come se cercassero di riportarlo in vita, quest'amore. L'amore è dunque il tema principe della sua opera, un sentimento che riserva non soltanto emozioni e cose positive, ma anche una sorte travagliata ai protagonisti. Allora l'amore non è solo il motore della vita, ma è anche qualcosa, diciamo così, distruttivo. L'amore è tutto, l'amore è l'unica forza veramente rivoluzionaria, ci trascina lontani da noi stessi, ci fa fare cose incredibili, ma ci fa anche distruggerci, e questo capita, insomma, quanti esempi di amore, come dire, distruttivi abbiamo nella vita e di conseguenza anche nella letteratura, no? Perché poi camminano insieme, spesso la vita e la letteratura, comunque non si sa chi ispira l'altra. E nella storia di Dalia e Gatano, nella storia del mio romanzo, c'è anche questo, c'è a un certo punto l'amore si trasforma, loro non sanno esattamente quando comincia a diventare distruttivo, no? C'è quando improvvisamente tutto quello che hanno costruito si sfalda, improvvisamente si sgretola, improvvisamente non sanno dov'è l'epicentro di questo terremoto, no? Perché di un terremoto si tratta, loro camminano sulle macerie di un amore finito e raccolgono i brandelli. Mi piace perché è un libro molto, anche contemporaneo, cioè fatto, come dire, flash, no? Sono flash di vita ordinaria in cui credo che ognuno possa riconoscere qualche cosa della propria menage coniugale, al di là che del fatto che tu sia ancora o non sia ancora con tua moglie o tuo marito. Dalia e Gatano rappresentano nel romanzo, come dice lei, la coppia moderna, ma come influiscono i modelli proposti dalla società attuale sulla disgregazione del rapporto tra i sessi? Io non sono una sociologa, quindi, insomma, come dire, mi ispiro a quello che vedo. Io vedo che, per esempio, non so, che c'è, come dire, questi sono due ragazzi di 30 anni e sono due ragazzi già abbastanza, come dire, fragili, vulnerabili, che hanno seguito mode sbagliate, che hanno seguito modelli sbagliati, che probabilmente hanno anche vissuto poi alla fine in un'assenza di verità, perché un po' questo è il problema dei nostri tempi, non è come se vivessimo in una sorta di reality costante, no? Ci piace essere osservati, cioè, questo loro, lui poi fa uno sceneggiatore, hanno due vestiti molto, anche quelli contemporanei, lei è una nutrizionista, quindi, come dire, sono stati manchevoli anche sulle cose proprio del quotidiano. In realtà lui non si è assunto la responsabilità dell'amore, no? Come spesso capita. E lei probabilmente ha cambiato prospettiva, perché i figli e la vita che diventa più opaca, no? Come spesso poi, come dire, la vita coniugale a volte capita, no? E loro si sono lasciati sommergere da questa ordinaria brutalità del quotidiano, che sfiora un po' tutti. La passione è forse il più fugace tra i sentimenti e tra le emozioni, ma cosa può trattenere nella vita due quel sentimento che ha originato l'unione di una coppia? Il segreto della resistenza, diciamo, il segreto della resistenza, in realtà non credo che ci siano formule, insomma, credo, come dire, quando le coppie, cioè, innamori tu ti riconosci, non sai esattamente perché, quando dico una forza misteriosa è così, cioè tu ti innamori e non sai perché ti innamori, ti lasci e forse anche lì non sai esattamente com'è che hai cominciato a lasciarti, quando è che hai cominciato a lasciarti, quindi è tutto, come dire, è tutto abbastanza vulnerabile, perché comunque, come dire, è il sentimento che più ci mette a nudo, è il sentimento che più ci lascia indifesi, è il sentimento che più ci lascia con i nervi e con la carne che palpita. Quindi, come dire, il segreto della resistenza è sicuramente, come dire, anche ogni generazione, come dire, ha il mondo intorno, perché poi loro in realtà si sono lasciati anche a penetrare molto dalla fragilità di un'epoca, no? Loro dicono che non era una generazione della patacca, del remake, tutto è già stato fatto, si tratta soltanto di visitare, si sentono anche come della decadenza di un'epoca, no? In cui, e sono figli a loro volta di generazioni già fragili, perché i genitori, uno è un ex sessantottino, un altro separato, eccetera, quindi insomma c'è già una fragilità, loro camminano sulle sabbie mobili. Credo che io non posso, come dire, credo che poi alla fine quello che rimane di fatto è che ci sono delle persone che hanno una tempra maggiore, che hanno dei maggiori valori morali, che probabilmente sono più oneste con se stesse, che probabilmente sono, e poi soprattutto è anche una questione di, come dire, di fortuna, perché insomma ci sono anche delle persone meravigliose che sono costrette a separarsi perché incontrano delle donne o degli uomini orribili, no? E quindi insomma c'è veramente, è un campo veramente sterminato. Però, insomma, in una coppia, come dire, la solidà di una coppia credo che nasca giorno per giorno, invece. Cioè io credo, ad esempio, nella mia coppia ho sempre navigato a vista, ecco, non mi sono mai specchiato neanche troppo, come dire, dell'innamoramento della coppia, no? Come spesso capita, cioè le coppie un po' si innamorano anche di se stessi insieme, questo è quello che è capitato a questi ragazzi, perlomeno. Con nessuno si salva da solo, lei compie un'altra tappa importante nella conoscenza dell'animo umano, ma sempre parlando del rapporto tra i sessi, come vede l'evoluzione è futura della vita di coppia. È tutto così, come dire, è tutto in continuo mutamento, quindi è molto difficile dire che cosa accadrà, che cosa non accadrà. Io credo che da una parte c'è come un ritorno a una certa normalità, capito? Anche perché c'è uno spavento, io per esempio non so, quindi figli, no? Cioè questa è l'unica generazione di ragazzi, un figlio piccolissimo e uno invece è abbastanza grande, dice a nove anni, quindi ho veramente il polso di che cosa significa avere un figlio oggi nel mondo. I ragazzi, ad esempio, è l'unica generazione questa di ragazzi che sa che non potrà fare meglio dei propri genitori, che cerca di mantenere quello che ha e quindi vivono questo senso di crisi, di precarietà che c'è intorno. Quindi anche tanti ragazzi si sposano e tornano subito, si chiudono subito in casa, si chiudono subito in una relazione molto, perché si proteggono come da un esterno che spaventa, c'è questo mondo globale, questo mondo... Da qualche parte c'è uno spavento. Noi eravamo più aperti, alla fine eravamo anche più lievi in questo. Poi adesso anche queste famiglie allargate, d'altra parte sono anche bellissime manifestazioni come dire di aggregazione, di amore, perché non è detto che l'amore, come dire, quello della famiglia di origine sia il migliore. Spesso poi non è detto anche quello del tuo coniuge sia il migliore. Magari tu incontri delle persone per strada e apprezzi più, senti un sentimento più forte per una persona che non è del tuo sangue, perché capitano anche gli incontri. Credo, insomma, l'evoluzione della famiglia andrà di pari passi con l'evoluzione o l'involuzione del mondo futuro. Quanto ha influito la sua esperienza di attrice nell'attività letteraria e soprattutto quanta fatica si porta dietro uno scrittore nello scrivere i suoi libri? La scrittura sicuramente richiede una grande solitudine, richiede la capacità di sprofondare, la capacità di stare, che è una cosa che oggi è sempre meno frequente, cioè la capacità di fermarsi e stare, stare su una cosa, di scendere, di scivolare dentro una cosa, di incuniarsi, perché spesso, come dire, fermarsi a riflettere è anche faticoso, quindi siamo molto abituati a un mondo invece, come dire, che ci sfugge di continuo, un po' superficiale, a saltabeccare di qua e di là, a fare cento cose contemporaneamente, a mandare una mail, a scrivere un messaggino al telefonino, eccetera, eccetera. La scrittura è un mestiere che richiede, come dire, anche una, tanto come dire, la capacità veramente di scrutare dentro se stessi, di sorvegliare il mondo e sorvegliare se stessi, quindi è un mestiere psicanalitico, un mestiere che fa bene, infatti io dico sempre alle persone che mi scrivono, mi scrivono tante mail di dire, comunque anche un diario, è così, fa veramente bene, è una sorta di terapia, perché comunque tu ti confronti con l'ignoto, perché in realtà non sai mai che cosa andrai a scrivere e questo è molto importante, perché è proprio, come dire, come votare il sacco, no? In questo senso è un mestiere psicanalitico, io credo che poi infatti ogni libro è come se avesse un suo inconscio, no? E che il lettore ritrova qualche cosa di se stesso, questo che viaggia nell'inconscio dei lettori, c'è uno scambio molto forte, molto intimo, a livello molto profondo. Tra un suo libro e l'altro sono passati diversi anni, ma quanto dovremmo aspettare per vedere la sua prossima opera? E soprattutto, c'è già qualcosa racchiuso nel suo cassetto? C'è sempre qualcosa, perché il mio cassetto è questa, è la testa, per cui c'è sempre qualche cosa, perché credo che poi uno scrittore sia innanzitutto un osservatore, no? E quindi, insomma, è un grande occhio che guarda, un orecchio dilatato, e quindi c'è sempre una percezione molto forte del mondo intorno. Io dico sempre come se tutto il mondo intorno a me scrivessi, perché è vero, è come se ogni, fin da tutti ogni faccia per strada ti racconta una storia, cioè ognuno ha una storia, ognuno, c'è sempre qualche cosa, capito? Poi spesso sono i dettagli che raccontano più che il resto. Io dico sempre c'è una calza sfilata sulla gamba di una donna, racconta la fine di un amore più che cento pagine, spesso sono i segni minori quelli che a me piacciono. E quindi questa capacità di catturare i segni minori del mondo credo che siano la prima qualità, almeno per la mia scrittura. Ringraziamo la signora Margaret Mazzantini, che ci ha gentilmente concesso l'intervista per la puntata di Books and Art di questa settimana. E come a tutti i nostri ospiti di rilievo, anche a lei facciamo un prezioso dono di una bottiglietta di aceto balsamico di Modena IGP, che rappresenta la nostra passione per il territorio e per la cultura e per l'intelligenza di persone come lei. E a tutti i nostri telespettatori un arrivederci alla prossima settimana. Grazie a tutti. Grazie a tutti.